Si chiama Jeff West, ha 47 anni di età e pensate che sarebbe stato condannato da parte di un tribunale dell'Alabama negli Stati Uniti America a ben 16 anni di reclusione in carcere in quanto avrebbe fatto fuori la moglie di nome Kathleen Cat Down West. In particolare l'uomo sarebbe stato incastrato dall'applicazione che va a contare i passi e l'uomo aveva fatto sapere già dagli inizi, da quando appunto era stato messo alle strette, che la donna era spenta, si era spenta in un incidente da ubriaca. Ma è emersa la realtà dei fatti, infatti l'app Contapassi ha incastrato proprio tutti i suoi movimenti, tutti i suoi spostamenti, che hanno potuto accertare, che hanno potuto mettere in condizione l'uomo di essere messo alle strette e di dover ammettere il reato, o meglio l'omicidio, per l'appunto da lui stesso commesso, da lui stesso compiuto. In Alabama c'è una comunità scioccata, c'è una comunità colpita dal profondo, in maniera diretta, autentica, che non riesce a darsi pace. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, la donna era una bellissima donna, che purtroppo non c'è più per colpa di quest'uomo, che si chiamerebbe Jeff Vest. Grazie a tutti, Catherine Catdown Vest, riposi in pace, Amen.